L'Europa che abbia dovuto subire come l'Italia, eppure l'Italia è anche il paese che nonostante tutto, nonostante le divisioni ideologiche, ha bisogno di trovare sempre le forze, le energetiche, i bisogni di cambiamento e di rinnovamento della società italiana. Anche oggi, nonostante il perdurare di una dialettica politica ancora assegnata dalle ideologie e dalla società giudiziale che voi testimoniate oggi, dobbiamo nonostante tutto contribuire ancora a rafforzare la democrazia e la libertà, soprattutto nella crescenza delle nuove generazioni. Attraverso l'esempio e la testimonianza che anche io oggi offro del dialogo rispettoso e della comprensione delle ragioni di tutti, perché questa è la democrazia, con la possibilità di fischiare, senza nessuna ragione, senza nessuna giustificazione. E se oggi siamo qui a ricordare e per chiederci se siamo degni del sacrificio delle vittime della strage di Bologna, che formano, come diceva Piero Calamandrei, riguardo ai caduti della resistenza, che per amici vengono al comune di Filizzano, di comune della strage, siete senza vergogna! di San Lorenzo, dove sono morte 400 persone, io so cosa vuol dire la democrazia e la libertà! Andrei, sono un tribunale uccidibile di fronte al quale dobbiamo rendere conto oggi delle nostre azioni e dei nostri comportamenti, se siamo davvero degni e coerenti rispetto alle ideali di libertà! Vai a Troia, Mille Cercosa, vai! Vai da quel putagnere del tuo padrone! Vai in Sardegna, Maiale! Vai in Sardegna con gli altri! Faccia di merda! Tu e quel putagnere che ti paga! Bagaglio! Grazie a tutti!